Il caso di Denise Houston potrebbe essere usato come ispirazione per un episodio di Grace Anatomy o simili. Pochi minuti dopo aver messo al mondo i suoi gemelli, i dottori sono rimasti sconvolti da quello che è successo in sala parto. All'epoca dei fatti, Denise aveva 25 anni, ma per chiarire meglio il contesto, vogliamo raccontarvi anche la sua infanzia. Essendo figlia unica, è stata molto amata dai suoi genitori, l'avvocato Mark e la maestra Hailey. A nove anni, Denise era considerata la studentessa migliore della scuola ed ecceleva sia in grammatica che in matematica. Sua madre Hailey ha giocato un ruolo fondamentale nei suoi successi accademici, mentre suo padre passava poco tempo insieme a lei. Mark infatti era uno degli avvocati più richiesti della città e lavorava presso una ditta molto rinomata. Riusciva a passare con la sua famiglia soltanto il fine settimana e spesso capitava che venisse richiamato in ufficio anche di sabato. Ogni volta che ne aveva la possibilità, però, faceva del suo meglio per trascorrere del tempo con sua figlia e trattava come una principessa e sua moglie che amava più di ogni altra cosa. Dopo Hailey, Mark era il più grande sostenitore di sua figlia e assisteva ai suoi saggi di danza ogni volta che riusciva a liberarsi dal lavoro. Denise, infatti, non era soltanto una studentessa a modello, ma anche un'ottima ballerina. Un sabato la ragazza e le sue compagne avevano appena finito le prove del ballo che avrebbero presentato ad una gara nazionale che si sarebbe svolta quattro settimane dopo. Hailey sarebbe dovuta andare a prendere la figlia alla scuola di danza, ma all'ultimo minuto ha telefonato per dire che non avrebbe fatto in tempo e Denise, ormai quindicenne, si è incamminata verso la fermata dell'autobus. Mentre camminava ha notato suo padre da lontano. Suo padre non era solo, ma stava stringendo teneramente la mano di una donna sconosciuta, Denise, alle porte di un ristorante di lusso. L'adolescente non sapeva bene cosa pensare. Sapeva che suo padre portava spesso i suoi clienti a mangiare fuori, ma non riusciva a spiegarsi come mai stesse tenendo le mani a quella donna misteriosa e la stesse guardando con tanta intensità. Confusa ma determinata a scoprire la verità, Denise ha deciso di seguire la coppia. Il suo stomaco ha fatto le capriole quando si è ritrovata a pochi passi da un albergo. Suo padre e la donna sono entrati insieme, lasciandola per strada con la testa che girava e il cuore che batteva all'impazzata. Suo padre era sempre stato il suo eroe, un esempio da seguire, ma in quel momento le sembrava di non averlo mai conosciuto veramente. Quella sera, quando Mark è rientrato a casa, Denise gli ha detto di averlo visto sia al ristorante che all'hotel. Suo padre però ha negato tutto. Non so che io cosa tu abbia visto, ma io ero dall'altra parte della città a quell'ora e nessuno può essere in due posti contemporaneamente. Quando Denise gli ha spiegato di essere certa che fosse lui e ha cominciato a descrivere anche la donna con cui lo aveva visto, suo padre ha alzato la voce contro di lei per la prima volta nella sua vita. Dopo quell'incidente, il rapporto tra Denise e Mark si è incrinato in maniera irrimediabile. L'avvocato ormai trattava con freddezza non solo la figlia, ma anche la moglie, che aveva sempre giurato di amare e rispettare. Prima dell'incidente, Denise era sempre stata contenta di rincasare per abbracciare i suoi genitori, ma ormai l'atmosfera in casa era diventata pesante e opprimente. I problemi a casa si sono riversati anche sulla sua carriera accademica. Per la prima volta Denise ha perso una gara scolastica e preso un brutto voto. Mark ha smesso di nascondere i suoi tradimenti ed è stato visto con diverse altre donne, costringendo Haley a prendere una decisione drastica. 12 mesi dopo la prima indiscrezione del marito, il giudice le ha garantito la separazione. Denise è riuscita a vincere una borsa di studio per l'università, ma ormai non era più concentrata sulla scuola come lo era stata prima del divorzio dei genitori. Col passare dei mesi ha sviluppato una dipendenza da alcol e marijuana, e al college reperiva con facilità. Al secondo anno ha deciso di abbandonare l'università e proprio in quel periodo ha incontrato Fernando, un ballerino come lei. Denise si è lanciata tra le sue braccia e al suo fianco le sue dipendenze sono peggiorate, portandola persino ad essere arrestata per possesso di droghe. Quando sua madre ha pagato la cauzione per tirarla fuori dalla prigione e le ha ordinato di smettere di frequentare quelle persone, Denise le ha risposto che non voleva più saperne di lei e si è trasferita nell'appartamento di Fernando. Tre mesi dopo si è accorta di non avere il ciclo da molto tempo. Una visita di controllo le ha confermato che era incinta di tre mesi. Denise non vedeva l'ora di creare una famiglia con l'uomo che amava, ma Fernando non era pronto a diventare padre. Devi abortire, non ho nessuna intenzione di avere un figlio proprio adesso. Proprio come ti ho detto che non mi voglio sposare così giovane. Sei rimasta incinta di proposito per incastrarmi. Pensavi che un bambino mi avrebbe fatto cambiare idea? Sei solo una povera sciocca, le ha gridato contro. Denise però era fermamente contraria all'idea di interrompere la gravidanza. Durante la lite entrambi hanno alzato le mani, ma per fortuna il nascituro non ha riportato danni. Fernando ha cacciato Denise di casa e lei, senza alternative, si è ritrovata a bossare in lacrime alla porta di sua madre. Hailey non aveva mai smesso di sperare nel ritorno di sua figlia e l'ha accolta a braccia aperte. Alla visita medica successiva, Denise ha scoperto di aspettare due gemelli. La sua gravidanza è stata serena e priva di complicazioni. I bambini hanno deciso di venire al mondo con due settimane di anticipo e la futura nonna, Hailey, si è incaricata di portare Denise in ospedale e stringerle la mano durante il parto. Il travaglio non è stato semplice. Mi sono volute ore per raggiungere una dilatazione sufficiente per procedere al parto. I dottori hanno dovuto impiegare diversi metodi per stimolare il travaglio, inclusa la somministrazione di ossitocina. Finalmente, dopo nove ore in sala parto, Denise ha messo al mondo il primo figlio. Il fratellino è arrivato 20 minuti dopo. Alla nascita, tuttavia, i medici hanno notato che il secondo gemello era molto pallido e non riusciva a respirare correttamente. Un'infermiara ha preso rapidamente una maschera per l'ossigeno e l'ha usata per aiutarlo a respirare, ma sembrava che i suoi sforzi fossero vani. Quando gli infermiari hanno cercato di farle capire che il piccolo non respirava più, Denise ha gridato, portatemi subito i miei figli. In queste situazioni è importante concedere alla madre tempo per elaborare il lutto, quindi i medici hanno deciso di assecondare la sua richiesta. Un'ostetrica le ha messo in braccio prima il gemello sano e poi quello che aveva smesso di respirare. Denise li ha stretti al petto fino a quando il primo figlio non ha smesso di piangere e ha cominciato a strofinare il viso contro la sua pelle. Dopo qualche minuto nella sala parto avvolta dal silenzio, si è sentito il grido di un bambino. Era il secondo gemello che si è risvegliato inaspettatamente. Nessuno sa con certezza cosa sia successo in quei minuti, ma sembra che il contatto fisico con la mamma e il fratellino lo abbiano riportato in vita meglio di un massaggio cardiaco. Denise ha chiamato il primo gemello Nathan e il secondo Ethan. Secondo i dottori è stato proprio il contatto pelle contro pelle tra mamma e figlio a risuscitare il piccolo. Ho sentito parlare di miracoli, ma non ho mai pensato che ne avrei vissuto uno in prima persona. Avevo letto dei benefici del contatto pelle a pelle e ho deciso di provare. Farò sempre del mio meglio per i miei bambini, ha dichiarato la neomamma. Che cosa pensate della sua storia? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.